Ben tornati sul nostro canale Mani Vanessa Io sono la mamma E tu sei la mia Si era dimenticato chi ero Anastasia purtroppo oggi non c'è Perché non ho voglia di fare il video E Monella Oh Cosa succede Sono volati dei guantoni Oh 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 Ho visto una bambina Anastasia ma ci sei anche tu Vieni vieni che ti vogliono salutare Le tue amiche Salutiamo i nostri amici Vanessa Chi salutiamo Suada Ciao suada Agatha Ciao Ciao Nicolo Sean Dove sei Monella ci avevi fatto uno scherzo Perché non volevi giocare Perché non volevi giocare con noi Perché no No Cos'ha in mano Anastasia Dei guantoni No Ragazzi avete visto questo Guardate il mio Non sono blu come questo Wow Non me ne ero mica accorta Pure le mie Pure le tue Oh Anche le mie Non è vero Ragazzi Profuma Di che cosa Mamma mia Di cina No Profuma di Di buono Di buono Guarda stasera quasi quasi ce lo mangiamo a cena Di ghiacciolo Allora ma che cosa facciamo oggi? Ci siamo persi in chiacchiere Facciamo una sfida Una sfida dove Anastasia Ti prende a pugni Ti prende a pugni Esatto Mi hai spaccato Non so se è il timpano o la mandibola Cosa c'hai da ridere? Mi stai facendo male? Questa sera mentre dormi ti picchio io Guardate qui quanti baby shark che ci sono Ma che carini E poi guardate qua queste due mostriciattole Allora chi è che spiega il gioco? Io Vai Quindi dobbiamo lanciare il dado Sì Come così no? E se ti dice guarda il quattro Che il quattro è qui Questo è il bianco quindi Dobbiamo togliere il pesciolino Sì Prendiamo il bianco E guardiamo la letterina che c'è Ok C'è un bigliettino nascosto dentro con una penitenza E dobbiamo farla Anastasia Ci sono veramente tanti colori C'è il verde, il rosa, il giallo, l'arancione, il blu e il bianco Allora Anastasia ascoltami bene Invece di gonfiare il palloncino Tu devi sapere cosa devi fare Che diventano tutte queste gonfie Anastasia Ti è volata la parrucca? Allora Anastasia Noi dobbiamo scegliere una penitenza Anzi il dado ci dirà quale penitenza dobbiamo fare Anastasia è fuori dal gioco Se riusciamo a fare la penitenza bene Se sbagliamo ci devi dare un pugno Piano eh Hai capito? Sì Ok pronti allora Pronti? 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 Pronti la penitenza Mamma Aspetta Aspetta Vai Carta Corbice Sasso Hai vinto Hai vinto tu? Quindi sarai tu ad iniziare Yuhu Ho capito come lei picchio Loro con questi L'abbiamo capito L'abbiamo capito L'abbiamo capito Pronta? Sei pronta a lanciare il super dado? Sì L'abbiamo capito Un Tre Vai Vediamo Vediamo cosa c'è scritto Bigliettino Vediamo C'entra Mira la telecamera Guardate Guardate Io ti faccio un bagnetto No Quando hanno finito i video Mi faccio un bagnetto con questi Va bene È lunghissimo È lunghissimo Riesci a leggere la mia scrittura Cammini con solo un piede e un libro in testa Sì Pronti? Via Riesci anche a partire Vanessa Com'è possibile? No Io sto Ma devi Ah Ah Giusto Come fai a camminare con un piede solo? Devi saltare Striscia Vole Striscia Uno È impossibile Madonna È già partita l'attacco Anastasia è partita l'attacco K O per Vanessa Stop No Non ci può Cinque 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 Vai vai Prendiamo il numero cinque Il Papa Shark Guarda un po' Vediamo un po' Sicuramente ci saranno le feste No Non credo Guardate che bello Sì amore Allora Guarda io non sono capace a disegnare Disegna un cane Per dieci seco In dieci secondi Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Sette Atto Nove Dieci È un can coniglio Vabbè però lo disegno Ma è giusto Ferma È giusto È giusto È solo Solo qui Un tagliato Secondo me È un incrocio È un incrocio tra Un umano Un coniglio È un cane Vabbè non è proprio un cane Ok Fatemela passare per buona Vuoi lanciarlo anche tu il dado? Sì Guarda che se però sbagli Vanessa ti dà un pugno eh Sei d'accordo? Sì Ok allora lancia il dado Dai Ma dove l'hai lanciato questo dado? Numero Cinque Devi rilanciarlo Perché ce l'è già uscito Il numero cinque Ok Mamma Numero Uno Vai amore Nonno shark Prendilo Nonno Nonnino Vediamo Non vogliscono Mettere il fatto Cosè? Leggo io amore Non ti preoccupare Cosa c'è chitto? Cosa c'è chitto? Allora Anastasia Non sbattere gli occhi Per dieci secondi Ok Sei pronta? Sì Mi sa che qui Anastasia Perchera Ma io non ne sarei così sicura Lo so che la voglia di darle un bel pugno è tanta Però Hai capito cosa devi fare? Non devi fare così per dieci secondi Devi tenere gli occhi aperti Guarda qui Via Uno Due Tre Hai fattuto Hai fattuti Ma non dovevi essere tu a venare lei Stop Numero 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 Dove sei? Numero Due Due Vai Mamma Mamma Ok raga Sei pronta? No Sei agitata? No Sei preoccupata? No E che cosa sei? Boh Non sai chi sei? E che cosa vuoi? Vai amore Allora c'è scritto Re 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 Ma fino a Sant'Iodoro Recita Uno Sciogli Lingua C'è un povero cane Pazzo Date un pezzo di pane A quel povero Pazzo cane Dita da nessuno Ma quando Pazzo era piccolina E recitava questo sciogli Lingua Diceva le parolacce Sciogli Cosa? Sei stata veramente brava a recitare la poesia Posso dire un'altra bandoletta per favore? Sì Dilla Sai cosa c'è dentro il mango? No Lo sai? No Mango io Tocca a me Allora ragazzi Adesso vediamo cosa Prendi mia madre E vediamo un po' Se è qualcosa di brutto Una barzelletta Non lo so Vediamo Sei pronta? Prontissima Via Anastasia è una barona Vuole sempre picchia URA No 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 Sì Sì Quattro Allora Fai cinque Flessioni Passiamo da Rocky A Rocky Sì Una Due Sì 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 Hai Sì Sì Uno sconvolto Uno sconvolto Così Ecco così Sì Allora C'è Kitto Bere con gli occhi Chiusi Vai Vai a prendere Un bicchiere d'acqua Ma gli occhi Tieni di aperti Adesso Sì Sono sicura Di sì Ok Ok Allora Vanessa Ti benda Adesso tu prenderai il bicchiere E berrai con gli occhi bendati Senza Fa cadere Tentato io gioco Bravissima Amici le sfide sono finite Eppure io siamo alle sfide E speriamo che il nostro video vi sia piaciuto Bentornati nel nostro canale Ci vediamo un altro giorno con un'altra sfida Domani Ragazzi Ci vediamo domani Un'altra sfida Ragazzi Un'altra sfida Un bacio a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Buone mani tutte Buone mani tutte Buone mani tutte